Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video che ho aspettato da tanto per farlo, perché vi voglio riportare la mia esperienza dopo un anno con l'Alfa Romeo Giulia. Questa è una 2002 turbodiesel da 180 CV abbinata al cambio automatico ad otto rapporti. Quest'auto la comprai usata un anno fa in rete ufficiale. L'auto aveva percorso 35.500 km ed era una vettura immatricolata nel 2018. A distanza di un anno ci ho fatto 51.200 km. Perciò vi voglio raccontare ora come si è comportata in questo periodo di tempo. Vi dico subito che per me quest'auto è stata una grande scommessa. È stata una grande scommessa perché mai prima dell'avvento di Giulia o comunque sia di Stelvio avrei pensato di possedere un Alfa Romeo. Ed infatti come prima scelta avevo valutato chiaramente le classiche tedesche. Ma poi con il passare un attimo del tempo e ragionandoci su, mi sono detto che quest'auto meritava di essere profondamente valutata. E così è stato. Mi è bastato vedere la linea, le caratteristiche tecniche, le raffinatezze meccaniche per capire che quest'auto era ciò che stavo cercando. Sì, perché nel 2021 trovare un'auto che ha un'anima, ha un carattere, non passa inosservata e nonostante ormai sia sul mercato da 5 anni, ancora è bellissima. E che dire, se tornassi indietro rifarei al 100% la stessa scelta. La cosa che più di tutte mi ha colpito di quest'auto, ma come penso sappiate già, è sicuramente la dinamica di guida. Una dinamica di guida eccelsa, chiaramente, che deriva dalle sue raffinatezze a livello meccanico. Ora non sto ad elencarvele perché ormai è parecchi anni che la Giulia è stata creata e penso che si sappiano. Ma in ogni caso, piacere di guida assoluto con quest'auto. Dovete poi sapere che per me quest'auto è un'auto a 360 gradi, nel senso che la utilizzo per andare al lavoro, la utilizzo per uscire la domenica, per andare in vacanza, la utilizzo in qualsiasi occasione. E per me è polivalente al 100%. Inutile negarvi poi che con quest'auto non si può non andare a fare qualche passo di montagna o quattro tornanti. Sì, perché è così. Il suo più grande difetto, ve lo dico subito, è la dipendenza che crea la guida. Provare per credere. Al di là poi del fattore piacere di guida, si è rivelata essere una macchina con cui mi sono trovato veramente bene anche nei lunghi viaggi e semplicemente per andare al lavoro. L'abitabilità è buona e anche per chi siede dietro nei lunghi viaggi diciamo che non si può lamentare. Anzi, tutt'altro. Chiaro, l'altezza ridotta e soprattutto le ridotte dimensioni fanno sì che per entrare ed uscire è un po' complicato. Però nulla di così sconvolgente. Anche il bagagliaio l'ho trovato bello capiente. L'unico limite è, vedete, l'accesso perché ha una bocca abbastanza ridotta ed è chiaro che non ha la stessa praticità di un SUV ma questo a me importa ben poco. Quello su cui mi voglio soffermare tanto però è il discorso della qualità costruttiva di questa macchina. Sì, perché nel 2016 Alfa Romeo, quando ha lanciato appunto quest'auto, ha dovuto compiere un passo bello importante perché se si vuole competere con i marchi premium tedeschi, principalmente, il discorso della qualità è essenziale perché non bastano dinamica di guida, piacere di guida per poter, diciamo, essere a livello della concorrenza e quindi vi volevo dire che anche a livello qualitativo io ho trovato su un ottimo livello. In primis vorrei sottolineare la raffinatezza e proprio qualità meccanica dei materiali scelti, motore, trasmissione e tutto il resto, carrozzeria, largo utilizzo di alluminio per le sospensioni, l'albero di trasmissione in fibra di carbonio, assolutamente di prima classe a livello qualitativo. Ma non solo, perché è stata accuratamente curata, secondo me, sotto tanti punti di vista come a livello di qualità. Ed infatti, dopo che ormai quest'auto ha quattro anni, devo dire che sono ben poche le cose da sottolineare, i difetti o i problemi, tra virgolette, che ho riscontrato. Dal mio punto di vista il più grande difetto è qua dentro. Chiariamo subito. I materiali utilizzati sono buoni. Non eccelsi, ma buoni. Anche il design dell'abitacolo è un design che mi piace molto. Molto semplice, pulito, ma personalmente a me piace molto più che quello di altre vetture dove abbiamo dei tablet appiccicati. Design riuscito e anche materiali ottimi, sicuramente portano quest'Alfa Romeo Giulia a competere con i marchi più blasonati. Dove però secondo me, e io vi riporto la mia esperienza su questa macchina, poi non è detto che tutte le Giulia siano così, però secondo me è sulla qualità degli assemblaggi dove bisogna lavorare un po' di più. Ora c'è da dire che con il model IR successivi sicuramente molti problemi sono stati risolti, però io non vi nego purtroppo che gli assemblaggi della mia Giulia non sono proprio eccelsi. In particolare pannelli porta che creano qualche rumorino e idem per il cruscotto. Secondo me sono sviste che devono essere risolte. Sia chiaro, non sono questi i problemi che tra virgolette mi fanno disprezzare quest'auto, anche perché vi dico subito che in famiglia c'ho anche un Golf 7.5 e nonostante i suoi 15.000 km e averlo comprato nuovo, anche quello a livello di scricchioli interni non si spreca, nonostante sia una tedesca doc. Quindi cara Giulia, ti perdono per questa volta. Se poi vogliamo trovare un altro piccolo difettuccio della mia Giulia riguarda il passaruota. Difetto comune a tutte le Giulia, però io ve lo voglio far vedere. In particolare qua vedete che purtroppo questi passaruota, è capitato a molti, tendono a rompersi. In particolare l'attacco inferiore, cosa però che non è accaduta invece nel lato destro dove risulta essere, anche dopo 50.000 km, integro. Che mi sento di, diciamo, evidenziare è lui il portellone. Sì perché questo è un portellone che sulle prime versioni diciamo che qualche rogna l'ha data. Sì perché se parcheggiate in salita la forza di gravità praticamente, non dico che lo fa richiudere, ma lo fa abbassare di un po' e c'è il pericolo di sbattere la testa. Problema abbastanza fastidioso, è stato risolto nei modellieri successivi con dei kit apposta, però io chiaramente quest'auto essendo del 2018 vi devo dire i pregi, ma vi devo dire anche i difetti. E il portellone del bagagliaio qui è uno dei difetti che ho riscontrato. Vorrei poi fare una precisazione per quanto riguarda l'infotainment e il navigatore di quest'auto, poiché sono state tante le critiche mosse a riguardo. Io a distanza di un anno devo dire che di certo non è il sistema più avanzato, più futuristico e preciso attualmente disponibile sul mercato. Anzi, vedete, le grafiche sono molto semplici, il menu è anche molto semplice da utilizzare, l'ho trovato sempre tutto molto intuitivo. E anche il sistema di navigazione dal mio punto di vista ha sempre funzionato bene e non mi ha mai dato nessunissimo problema. Certo, chiaramente tenendo sempre aggiornate le mappe di navigazione. Per quanto riguarda la versione da me scelta, questa 180 CV mi è piaciuta molto. Il motore regala buone prestazioni, il tutto però con dei consumi ridotti. Dopo un anno, ciò che ho rimpianto è il fatto di non aver trovato una versione con i pack performance, quindi con il differenziale autobloccante meccanico posteriore Q2 e la regolazione delle sospensioni. Altro consiglio è che, tasche permettendo, il 2000 benzina è un motore che merita sicuramente di più su quest'auto per via del suo maggiore piacere di guida. Per il resto, che dire, in questi quasi 16.000 km trascorsi insieme posso dire che non ho potuto fare acquisto migliore. Per quello che cercavo io e soprattutto per quello che si è rivelato essere quest'auto. Perché come vi dicevo prima, nel 2021 trovare un'automobile che ha un'anima, un carattere come la Giulia è veramente raro. E purtroppo lo sappiamo, lo sappiamo che questo qui sarà il canto del cigno purtroppo di macchine del genere, con motore termico, trazione posteriore e tutte delle caratteristiche meccaniche di primo livello. E quindi io vi invito al più presto, se anche voi mettete il piacere di guida al primo posto, di procurarvene una di quest'auto. Perché dal mio punto di vista saranno irripetibili. Specie se poi consideriamo il mondo dell'elettrificazione che sta spingendo sempre maggiormente nel settore dell'automotive.